Maxi truffa per oltre 100.000 euro ai danni di alcune aziende della Retino, ma non solo. Questo quanto scoperto dai poliziotti del commissariato di Montevarchi che hanno denunciato due persone, un 45enne ed un 35enne, entrambi fiorentini, che dovranno rispondere di truffa e ricettazione in concorso. Le indagini erano scattate a seguito della denuncia del responsabile di un'azienda agricola valdarnese. Sfruttando il nome e il timbro della ditta, era stato infatti acquistato materiale da un'altra azienda di Livorno, senza però corrispondere all'importo dovuto, oltre 40.000 euro. È stato poi scoperto che il committente, un 45enne originario di Firenze, era un ex collaboratore dell'azienda, da poco licenziato ed era anche l'unica persona ad avere accesso ai locali della struttura. Il truffatore, ostentando solidità economica, contattava le ditte per l'acquisto dei materiali, corrispondeva un piccolo acconto in contanti, promettendo di saldare il conto attraverso bonifici bancari, riconducibili a conti correnti che poi risultavano sistematicamente inesistenti. Infine si rendeva irreperibile. I materiali ordinati non dovevano però essere consegnati in ditta, ma in posti diversi. In alcuni casi la richiesta era quella di consegnarli su uno spiazzo poco dopo l'uscita del casello autostradale a Uno Valdarno, in altri in una località fuori dalla vallata in provincia di Arezzo, proprio dove la polizia ha trovato un ingente quantitativo di materiale edile accatastato lungo una strada decente una casa colonica in fase di ristrutturazione, in esclusivo utilizzo ad un 35enne di origini fiorentine. I poliziotti hanno così eseguito perquisizioni locali e personali a carico dei due uomini e ritrovato il materiale denunciato dalle persone truffate. Per un'altra parte del materiale la polizia invece sta ancora cercando i legittimi proprietari.